ciao a tutti sono candida nel video di oggi voglio fare la prima pagina interna del mio quaderno dei progetti stile art journal ho pensato di farla utilizzando delle pagine di un vecchio libro da incollare sul mio supporto come sfondo incolliamo tutto con la miss media glue di stamperia ciao 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 passo un po di gesso sulla mia sulla mia pagina adesso vado a spruzzare il mio acqua color brunito iridescente sulla mia pagina ok 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 asciughiamo allora con questo stencil stamperia e con la modeling pass stamperia ho realizzato questi fiori in rilievo magari ne mettiamo ancora uno qui anche solo un pezzettino magari così giusto per ecco adesso andiamo ad asciugare e poi coloriamo i fiori per colorare i fiori uso i miei pennarelli della faber castell i big brush pens grazie a tutti 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 questo è il risultato finale e adesso vado a inserirla nel mio coderno la inserirei qui dopo i miei lavori di scrap va la pagina al suo posto grazie a tutti se avete dubbi e domande o volete semplicemente lasciare un commento sarò felice di leggerlo e come dico sempre se il video vi è piaciuto e come al solito non vi resta che augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo video ciao